Allora non devo, non ho fatto un'idea, non devo... Oh lì no, non ho manco tutto. Cioè, quindi è più difficile. Ficca che sono io, no? Quando fai tutto? No, no. Non so, però che non lo faccio, ma non lo muovo. Non so, comunque, sì. Non so, ma non so. Ma nel campo vale quello che vuole ad essere Siena. dietro il silenzio, dietro il silenzio, e la gamba sentite un momento, a 30 minuti si tira a morte vabbè però qualche carosello ce l'ha riprovato ah ok 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 Grazie a tutti.